si, premuto, pulsante, spazio allora, adesso è in neutra mettiamo la prima sempre quando si passa dalla rete quindi bisogna mettere un po' di gas guardate, attenzione che arrivano le altre le scure un po' in mente, una colchina sconda cal passa passa vai un arco questa cosa non è da passi con i campi di sport che ripartiamo merda quant'altra volta si dà cal prendiamo la freccia lascia qualcuno prendiamo la freccia con la rostra un po' di oh 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 raiate ne linea Grazie mille